Ups, tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi 23 dicembre, e quindi cosa farò oggi? Oggi che trigger ho scelto per voi? Non lo sapete, ma per scoprirlo indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Oggi ho scelto un trigger che non ho mai portato su questo canale, ma che secondo me è molto carino. Ho rubato due palline di Natale dall'albero e sono queste qui, sono due palline trasparenti con i dettagli in argento e hanno dentro queste palline di polistirolo che sembrano neve. Quindi poi il suono mi piaceva e ho deciso di portarlo, quindi cominciamo. Alla prossima 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 Alla prossima